Eletti, amici cari, il vostro palpito sia nel mio. Sia così la vostra vita, offerta a me, Gesù. Figlia amata, chi vive in me nel momento presente vivrà con me l'intera vita, perché offro in dono ai miei la perseveranza finale. Figlia cara, beato colui che mi ha fatto il dono della sua vita e la conduce in me giorno dopo giorno, io, Gesù, palpito nel suo cuore e guido i suoi pensieri al bene. Dolce amore, ho ben compreso che colui che ha posto la sua vita nelle tue mani ora, in questo tempo della storia, vive in terra il paradiso, un congruo anticipo, ma colui che non ha voluto porre la sua vita nelle tue, dolci mani si sta inoltrando senza neppure accorgersene, in una foresta sempre più intricata e rischia molto, rischia la salvezza della sua anima. Il terribile nemico, come serpe astuta, lo segue in silenzio ed attende il momento per aggredire. Gesù, dolce amore, può perdersi uno senza che se ne accorga. Figlia amata, ascolta bene le mie parole e poi trasmettile al mondo. Non c'è anima che io, Dio, non ami teneramente. Non c'è anima dimenticata da me. L'uomo, che ha capacità di intendere e volere, deve usare i suoi talenti per la sua salvezza. Il suo primo pensiero deve essere quello di salvare la sua anima, il secondo quello di aiutare il suo prossimo a fare la mia volontà con gioia. La rovina viene dal nemico, mai da me. Io, Gesù, conduco sempre a me il pensiero, il palpito dell'anima. Ogni uomo ha il libero arbitrio, può fare della sua vita un capolavoro d'amore per me, può anche gettarla alle spine senza di me. Giorno dopo giorno, l'uomo prepara la sua fine. C'è chi ci pensa e chi non ci pensa. Piccola mia. Spesso ti ho fatto l'esempio di un esame importante da affrontare. Colui che usa bene il talento della sua intelligenza dice. L'esame è impegnativo, molto importante per la mia vita. Occorre che mi impegni a fondo, giorno dopo giorno, senza tralasciarne alcuno. Poi, quando verrà il momento di sostenerlo, sarò sereno e fiducioso. Colui che vive spensierato ed indifferente. Non per questo non capisce che anche per lui ci sarà una fine. Anche egli dovrà sostenere un grande esame. Capisce tutto, ma niente fa per prepararsi. Dimmi, piccola mia figlia. Forse che costui non sa ciò che fa? L'uomo, che ha capacità di intendere e volere, sa, ma non vuole, capisce, ma resta inattivo, è grandemente colpevole, e rischia di precipitare nell'abisso di fuoco. Lì, dove vanno coloro che sono molto colpevoli. Ho concesso ad ogni uomo la facoltà di intendere e volere. Egli la deve usare anzitutto per la propria salvezza, poi, per aiutare gli altri, a percorrere la via del bene ed a fuggire quella del male. Figlia amata, hai ben compreso il mio dire? Dolce amore, ho ben compreso che nessuno si perde, se non vuole perdersi, perché vivo e costante è il suo impegno. Ma certo si perde chi ha voluto col suo comportamento percorrere la via della perdizione, giorno dopo giorno, rifiutando il tuo aiuto, il tuo sostegno, la tua dolce presenza in lui. Ritorno col pensiero all'esame importante. Tutti capiscano che devono sostenerlo, tutti lo capiscano bene. La morte è tale esame. Devono, quindi, prepararsi giorno dopo giorno, implorando le tue grazie. Ognuno capisca che se non si prepara non può superare l'esame, e nessuno si illuda di superarlo, senza preparazione alcuna. È lo stolto più stolto colui che si illude. Gesù, dolce amore, concedi le grazie di salvezza ad ogni uomo, e siano a profusione sulla mia dolce patria, da te prediletta. Nessuno si perda nell'abisso di fuoco e disperazione. Figlia cara, bene hai detto che la tua patria è la mia prediletta. E fonderò grazie speciali per la salvezza del popolo italiano. In questa terra sono presenti molti miei strumenti. Ed un canto di adorazione si alza a me ogni giorno. Ti dico che la purificazione sarà meno dura lì, dove c'è la presenza delle mie spose e dei miei cari amici. Per pochi userò benevolenza a molti. Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Vi amo.